Non si è presentato in aula Paolo Enrico Pinna, il 19enne di Nule, condannato in appello dal Tribunale dei Minori di Sassari per gli omicidi di Gianluca Monni, 18 anni di Orune, e Stefano Masela, 29 anni di Nule, assassinati tra il 7 e l'8 maggio 2015. Il giovane era stato chiamato sul banco dei testimoni dai legali di Alberto Cubeddu, 22 anni di Ozieri, cugino di Pinna, imputato a Nuoro presso la Corte d'Assise del Tribunale per gli stessi delitti. Ma stamattina non si è fatto vedere, il suo legale ha comunicato alla Corte che Pinna, attualmente detenuto nel carcere di Uta, dopo l'evasione di quest'estate dal carcere minorire di Quartuccio, non sarebbe stato in aula come testa della difesa di Cubeddu. Pinna era minorenne all'epoca dei fatti e il suo percorso processuale è stato più rapido di quello del co-imputato Cubeddu, tanto che è già stato condannato in appello al massimo della pena prevista in caso di un imputato minorenne e col processo celebrato in forma abbreviata. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, i due cugini avrebbero ucciso Monni per vendicare un affronto subito da Pinna a Urune nel corso di Cortes Apertas, quando, dopo aver importunato la fidanzata alla vittima, Pinna avrebbe reagito puntando contro Monni una pistola, ma venne disarmato e poi pestato da alcuni giovani del paese. Masale, invece, il cui corpo non è stato mai trovato, sarebbe stato ucciso per rubargli la Opel Corsa, poi utilizzata per l'omicidio Monni e per addossargli la colpa.